oggi siamo venuti al parco canile della valbasca insieme a noi marco marelli responsabile empacomo e chi altro è qui con noi oggi con noi abbiamo tor che è un pitbull del 2015 entrato in canile nel 2017 quindi giovanissimo neanche due anni è un cane che è arrivato da una situazione di disagio diciamo non proprio maltrattamento gravissimo dove la sua proprietaria commetteva i reati inerenti alla droga e il cane era rimasto affidato alla mamma anziana ha morso la mamma perché non sapeva gestirlo il cane quindi è stato portato via dal comune e assegnato a noi per il recupero è un cane che ha avuto grossi problemi caratteriali col tempo gli sono molto migliorati come notate anche una bella fisicità perché veramente uno splendido cane ecco come oggi infatti tor che porta un nome diciamo anche un po cinematografico perché non è soltanto un dio ma è anche un ormai un personaggio dei film dei fumetti allora tor è un cane che onestamente esce solo con me in passeggiata mettere col tempo usciva anche con altri poi man mano come lui si appoggia tantissimo alla persona con cui esce con cui ha rapporti esce solo con me perché si fida esce tranquillissimo non ha problemi con altri cani è molto reattivo sui rumori forti improvvisi c'è qualcosa che succede all'improvviso loro lui è subito reattivo sta sempre sulla sul chi va là ed è molto insicuro nonostante vedete la la massa i muscoli che ha è un cane molto insicuro se non non ha conoscenza dalla sua potenza in certo senso tor chi cerca oggi che padrone cerca tor ha bisogno di un padrone che abbia tanta pazienza di venire a fare tutto un percorso di affiancamento con noi per conoscere lui dove verrà portato in passeggiata gli verranno fatti fare degli esercizi che all'interno del canile e deve vivere in una situazione con ampi spazi cioè non va bene il bilocale monolocale lui ha bisogno di un giardino ampio di spazi diciamo di fuga tra virgolette dove lui si può rifugiare in un momento di paura e di una persona che sappia gestirlo con calma e tranquillità per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il canile della valbasca al numero 031 54 29 26 oppure inviare una email a canile valbasca chiocciola gmail.com